Se qualcuno ha quattro esperanza, anche se non ricorderà mai i tempi, ormai è l'urna di piaccia in te, è un po' di canzone, sicuramente rispetteremo, ma se c'è quattro già, sicuramente, perché non c'è la batteria, è la batteria, esatto. Ci siamo? Marco Dio, tu hai che Mario? Ecco, hai indagato, dimmi la gentino che è Mario Berlino. Ecco, parlo tu, ma anche il nome è tuo, eh. Stesso di un'altra volta. Ci siamo fatto una ripresa. Mi sembra di avere un doll. Mi sembra di avere un dollardo.